Molto importante la sua lettera al collega Speranza per utilizzare la circolare anche per gli Atenei. Parliamo del coronavirus. Sì, io ho scritto questa lettera al Ministro proprio per valutare l'estensione della circolare agli Atenei in maniera tale da continuare questo monitoraggio più attento degli studenti che rientrano dalla Cina e garantire condizioni di sicurezza per le università e tutti i ragazzi che frequentano i nostri corsi. Il fatto che non sia obbligatorio poter scegliere anche di entrare e non entrare a scuola? Ma questo, diciamo, quando ci sono delle condizioni di sicurezza, cioè quando non si presentano dei sintomi per questioni anche un po' di regolarità delle attività didattiche è opportuno che ci sia una scelta autonoma. Però io credo che ci sia grande responsabilità da parte dei giovani e delle famiglie per fare in modo che in un clima di concordia si riduca qualsiasi rischio per la collettività. Il Teramo è una grande realtà e testimonia l'importanza delle università nelle aree interne perché rappresentano un elemento di grande sviluppo, di sostegno delle comunità ma anche combattono i fenomeni di spopolamento che noi stiamo vivendo purtroppo nelle aree interne del paese e la presenza di un'università forte è un fattore molto importante. Noi come Ministero faremo un'attività di sostegno nei confronti proprio di queste università per fare in modo che possano esercitare bene la loro funzione in territori così importanti.